set tre paralumi del lampadaria ragazzi vendo tutti e tre 50 euro spedisco e faccio la spedizione spedizione a carico del destinatario eccoli qua tutti e 350 euro sono tre paralumi vintage eccoli qua antichi per lampadari guardate quanto sono belli faccio la spedizione 50 euro tutti e tre sono antichi lampadari per lampadari paralumi non sono lampadari sono paralumi per lampadari eccolo qua tutti e tre ragazzi mi rendo tutti e tre a 50 euro sono antichi anni 70 80 vintage ragazzi contattatemi contattare 50 euro tutti e faccio la spedizione in tutta italia e ve li sperisco tutti e tre così come le vedete così tutti e tre 50 euro ragazzi questo è tutto contattatemi al più presto grazie ciao